Il governo polacco ha lanciato l'allarme. Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner, distanza in Bielorussia, si sono spostati verso il corridoio di Suwalki, quindi al confine con la Polonia. Nella notte attacco di droni su Mosca, colpiti un paio di edifici. Per il momento si conta un ferito, chiuso per ore l'aeroporto della capitale. Tragedia a Colonia Monzese. Una ragazza di 20 anni è stata uccisa a coltellate dal suo ex. Il delitto all'alba a casa della studentessa. L'uomo di 23 anni si è poi consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine. Non sopportava la fine della relazione con la giovane donna. Nel 2023 sono già 70 i femminicidi, 5 solo negli ultimi giorni. L'Italia trionfa in mondiale di scherma. Ieri doppio successo azzurro, oro nella spada maschile e nel fioretto femminile a squadre. Avversaria in entrambe le finali è stata la Francia. In Formula 1 in Belgio la prova sprint va a Verstappen. Questo pomeriggio la gara con il ferrarista Leclerc che partirà in pole position. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque in primo piano c'è la questione che riguarda il reddito di cittadinanza. I toni che si stanno alzando dopo l'arrivo a 169 famiglie di quel sms con cui l'Inps comunica che dal primo di agosto non riceveranno più il reddito di cittadinanza. Fratelli d'Italia rincara la dose e annuncia una commissione parlamentare di inchiesta nei confronti dell'ex presidente dell'Inps Tridico. Durissima la reazione dell'opposizione. Dopo lo stop al sussidio Fratelli d'Italia vuole ora istituire una commissione di inchiesta parlamentare sull'ex presidente Inps Tridico. Non ha attivato i controlli per non far perdere voti al Movimento 5 Stelle e la sintesi dell'annuncio del proponente Foti. Sul filo di ciò che resta del reddito di cittadinanza si riapre dunque lo scontro profondissimo tra maggioranza e opposizione. Per Bonelli, alleanza verde-sinistra, c'è la volontà di sostituirsi alla magistratura mentre la segretaria PD Schlein bolla l'addio al reddito via SMS come una brutalità con i sindaci calabresi che chiedono al governo di revocare la decisione. La premier Meloni aveva appena confermato la disponibilità a un dialogo sul salario minimo pur con le riserve del centro-destra. Invece la richiesta del presidente dei deputati di Fratelli d'Italia cambia i toni degli ultimi giorni con i guantoni da box. L'idea di costituire una commissione parlamentare lanciata a sorpresa innesca l'1-2 dei 5 Stelle specie perché la linea di Fratelli d'Italia è di limitare la responsabilità a Tridico per possibili problemi enormi all'erario e per non aver consapevolmente, dice Foti, attivato i controlli al fine di non far perdere consenso ai suoi mandanti. Accuse pesanti che il leader 5 Stelle Conte rispedisce al mittente con toni durissimi. Non ci intimidiscono, attacca l'ex premier parlando su Facebook di tentativo di bullismo istituzionale. Il vicepresidente del Movimento, Ricciardi, dice che Fratelli d'Italia è un partito ormai fuori controllo denunciando un killeraggio politico sul partito dell'ex premier e sull'ex presidente dell'Inps. Silvestri, capogruppo alla Camera 5 Stelle, sostiene che la richiesta di indagini parlamentari su Tridico sia solo un diversivo del governo mentre Todde chiede una proroga del reddito. Ma Foti torna all'attacco. Le reazioni scomposte degli interessati ci pongono un interrogativo, dice. Cosa hanno da nascondere, Conte e Tridico? C'erano già state le proteste di molte famiglie per l'avviso VSMS della sospensione del sussidio. 169.000 ai nuclei rimasti fuori. Nuove norme per gli ultimi percettori e reddito in scadenza a fine anno, invece. Sostituito dalla carta dedicata a te. Lo scopo, ribattono da Fratelli d'Italia, non è punitivo. Serve a non lasciare indietro chi non è in grado di lavorare, ma senza sprecare soldi. Alla protesta delle opposizioni si sono però già giunti ampi stralci di sindacato. E in un'intervista alla stampa che trovate questa mattina, Tridico respinge l'accusa e sostiene di non avere nulla da temere e soprattutto spiega di aver realizzato una direzione antifrode mai esistita prima, che il reddito è stata la misura più controllata e sono state evitate frodi per 11 miliardi. Andiamo adesso in Ucraina, partiamo dalle preoccupazioni della Polonia per l'avanzata della Wagner. Ci sarebbero un centinaio di combattenti delle milizie Wagner che dalla Biello-Russia si starebbero avvicinando allo strategico corridoio di Sawaki. La notizia l'ha data ieri il premier polacco Morawiecki, preoccupato che il passaggio dei paramilitari possa destabilizzare ancora di più il territorio polacco. Il corridoio è infatti una striscia di terra lungo una sessantina di chilometri, sempre più cruciale per gli assetti geopolitici. Corre lungo il confine tra Polonia e Lituania e separa la Biello-Russia dalla regione russa di Kaliningrad 1 Blast, fuori dai confini della Federazione Russa con strategico affaccio sul mare. Il passaggio delle milizie di Prigoshin potrebbe rappresentare un gioco per creare pressione e confondere ancora di più le acque dopo il tentato golpe contro Mosca, fallito il quale i mercenari si erano rifugiati nel paese di Lukashenko. In Ucraina, intanto, mentre il presidente Zelensky ieri ha visitato una delle posizioni conquistate dalle truppe di Kiev sul fronte vicino alla città di Bakhmut, sotto il controllo russo, l'offensiva si starebbe consolidando a nord-est della città di Robotin nella regione di Zaporizia, uno snodo fondamentale che aprirebbe agli ucraini la via verso Melitopol. Sul fronte opposto si è concluso a Sian Pietroburgo il vertice russi a paesi africani che sul tavolo aveva principalmente il tema del grano dopo lo strappo di Mosca all'accordo. Putin ha promesso che entro 3-4 mesi Mosca garantirà i cereali russi ai paesi africani in difficoltà. Siamo venuti qui non per chiedere regali, ha detto il presidente sudafricano Rama Posa. Vorremmo che il Mar Nero fosse aperto ai mercati globali e abbiamo avanzato le nostre iniziative di pace, ha detto. Nonostante la politica dei paesi occidentali che operano esclusivamente nel proprio interesse in qualsiasi conflitto internazionale, la Russia è pronta a cercare una soluzione pacifica sull'Ucraina è stata la risposta di Putin che ha aggiunto non abbiamo mai rifiutato i negoziati ma a Kiev c'è un decreto che vieta le trattative. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto questa mattina di aver respinto nella notte un attacco ucraino con 25 droni aerei contro la Crimea tutti abbattuti o comunque neutralizzati elettronicamente e una persona è rimasta ferita questa notte a seguito di un'esplosione che è avvenuta in un edificio della città di Mosca dopo appunto un altro attacco di droni in precedenza il sindaco di Mosca aveva affermato che la città era stata attaccata da droni ucraini l'aeroporto della capitale russa è rimasto chiuso per qualche ora a causa dell'incidente Mosca si trova a circa 500 chilometri dal confine ucraino l'attacco di stanotte è l'ultimo di una serie di recenti assalti con droni tra cui anche uno sul Cremlino che Mosca ha attribuito a Kiev e adesso andiamo negli Stati Uniti per parlare di Donald Trump che continua a dichiararsi una vittima della giustizia e ad attaccare Joe Biden il ritornello è sempre lo stesso Donald Trump non cambia approccio e anche in Pennsylvania in un nuovo appuntamento elettorale ha continuato a dichiararsi vittima di una caccia alle streghe l'ex presidente degli Stati Uniti che qualche giorno fa ha collezionato altri reati per aver sottratto documenti segreti dalla Casa Bianca trasforendoli nel suo resort di Palm Beach non cambia la sua strategia trarre profitto dai suoi guai giudiziari trasformando le accuse in consenso elettorale i sondaggi al momento gli danno ragione il Taekun ha continuato ad attaccare Biden e il dipartimento di giustizia americano accusato di essere un'arma in mano alla sinistra radicale definendo ogni incriminazione un distintivo d'onore ciò che stanno facendo è sperare in una massiccia interferenza elettorale ha detto Trump vogliono danneggiare il candidato principale ha aggiunto invitando inoltre gli altri candidati alle primarie repubblicane ad abbandonare la corsa il principale indiziato è il governatore della Florida da Ron De Santis distante nei sondaggi ma l'unico che può impensierire l'ex presidente per Trump i problemi con la giustizia potrebbero moltiplicarsi nelle prossime settimane dopo l'inchiesta dello Stato di New York per aver comprato il silenzio della porno star Stormy Daniels per non danneggiare la campagna elettorale nel 2016 e le accuse federali dei documenti top secret trafugati dalla Casa Bianca l'ex presidente potrebbe essere incriminato in Georgia dove è al centro di un'inchiesta incentrata sui tentativi di sovvertire il risultato elettorale del 2020 nuovi reati che invece di mettere un freno alla sua voglia di tornare a Washington continuano ad esaltarlo spingendo la base repubblicana a giocare duro per combattere quella che ha definito una frode del partito democratico Trump in Pennsylvania ha continuato a sostenere che se fosse stato presidente la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina e ha anche promesso che se tornerà la Casa Bianca metterà fine al traffico di minori e taglierà i fondi a tutte le scuole che nei loro programmi tratteranno la storia del razzismo e altri inappropriati contenuti razziali sessuali o politici torniamo in Italia per la cronaca e dobbiamo parlarvi purtroppo dell'ennesimo femminicidio si tratta di una ragazza molto giovane di 20 anni che è stata uccisa dal suo ex fidanzato che non accettava la fine della loro storia ci sarebbe un momento sentimentale una lite per una relazione finita male dopo anni di tira e molla una storia come tante tra due giovani Sofia Castelli 20 anni e Zaccaria Tcaui 23 l'ultima foto postata da lei sui social un'istantanea mossa dei palazzi di Cologno all'alba segna le 5.58 pochi minuti dopo lui la ucciderà in casa sua accoltellandola alla gola è stato Zaccaria italiano di origine marocchine a confessare l'omicidio fermando una pattuglia della polizia locale la vittima studentessa di sociologia all'università Bicocca era appena rientrata da una notte di festa trascorsa in discoteca insieme all'amica del cuore in questi giorni si trovava a casa da sola i genitori e il fratello di 15 anni erano in Sardegna per il cinquantesimo anniversario del matrimonio dei nonni materni Zaccaria che tante volte era stato ospite della famiglia e conosceva bene l'abitazione l'ha aspettata è entrato nell'appartamento senza lasciare segni di effrazione e dopo una lite l'ha colpita più volte alla gola con un coltello fermato il 23enne che è stato sottoposto a diverse ore di interrogatorio nella caserma di Cologno ascoltata come testimone anche l'amica di Sofia che si era fermata a dormire da lei ma quanto emerge non si sarebbe accorta dei fatti fuori la rabbia e lo sconcerto di diversi amici della ragazza alcuni accompagnati dai genitori Zaccaria concluso l'interrogatorio si affaccia dalla finestra ed indica ai carabinieri in molti conoscono anche lui in attesa della convalida l'accusa è di omicidio volontario parliamo adesso dell'inchiesta del naufragio a Cutro dello scorso febbraio perché ci sono dei nuovi elementi che arrivano dalle testimonianze di alcune persone che sostengono che il barcone fu sorvolato da un elicottero dalle carte dei magistrati che indagano sul naufragio di Cutro del 26 febbraio emergono tre nuove testimonianze tre sopravvissuti ascoltati dai legali torinesi le loro parole videoregistrate e tradotte dall'inglese dal farsi in due diversi campi di accoglienza nel nord della Germania dove si trovano in questo momento come riportano alcuni quotidiani le due donne e l'uomo ascoltati riferiscono di aver visto un elicottero bianco con la coda rossa che avrebbe sorvolato il battello carico di migranti per ben due volte prima che si schiantasse contro una secca uno dei naufragi più drammatici con 94 morti dei quali 35 bambini solo 80 persone si sono salvate i sopravvissuti hanno raccontato di aver visto l'elicottero prima che fosse buio alle 19 del 25 febbraio circa hanno ricostruito i legali poi di notte probabilmente intorno alle 22 quindi circa quattro ore prima che un velivolo di Frontex segnalasse l'imbarcazione più o meno nove ore prima del naufragio e entrambe le volte gli scafisti hanno fatto entrare subito sotto coperte i migranti per nasconderli nella registrazione della deposizione consegnata in procura di cui il quotidiano La Stampa riferisce di avere copia si vede un sopravvissuto indicare la fotografia di un elicottero della Guardia Costiera un dettaglio che finora non era emerso saltato fuori per caso mentre i legali tentano di ricostruire cosa fosse accaduto prima del naufragio i magistrati cercano ora riscontri verranno quindi acquisiti i piani di volo degli elicotteri della Guardia Costiera per verificare i tre racconti Siamo adesso di scuola perché il Ministero dell'Istruzione ha deciso di avviare una serie di verifiche su quegli istituti che praticamente conferiscono diplomi di maturità con una certa facilità Sarebbero circa 10.000 in riferimento all'ultima maturità i diplomi sospetti evidenziati nel rapporto della rivista Tutto Scuola un dossier che punta i fari sui cosiddetti diplomifici ovvero quegli istituti che spesso eludendo l'obbligo di frequenza da parte dei propri studenti rilasciano annualmente migliaia di titoli di studio L'indagine attenzione in particolare 92 istituti pari al 6,5% delle 1423 scuole paritarie che portano studenti alla maturità nei quali si è registrata una crescita esponenziale delle iscrizioni a ridosso degli esami di Stato Di questi la quasi totalità si trova in Campania 82 6 sono nel Lazio 4 in Sicilia da soli rappresentano un incremento di quasi 11.000 iscritti rispetto a quello complessivo di 30.000 si tratta precise il dossier di poche mele marce ben nascoste che tuttavia operano nell'ambito di un sistema opaco all'interno di quello pubblico con un giro d'affari di almeno 50 milioni di euro l'anno variazioni anomale delle iscrizioni da 70 fino a quasi 300 tra il quarto anno e il quinto dell'anno successivo iscritti provenienti da altre regioni rispetto alla sede della struttura sono solo alcuni dei tasselli che dovrebbero far scattare dei campanelli d'allarme e si riscontrano casi limite un istituto ad esempio riferisce il rapporto sarebbe passato da 11 iscritti in quarta a 296 l'anno dopo in quinta il ministero dell'istruzione vuole avviare delle verifiche lunedì avvierò le ispezioni su cosiddetti diplomifici punto molto sull'aumento del numero degli ispettori per garantire la regolarità del sistema scolastico ha fatto sapere tramite social il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara nel frattempo spiega il di Castero di Viale Trastevere sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori mentre si sta lavorando per inserire nella legge di bilancio risorse per incrementare ulteriormente l'organico dei dirigenti tecnici sul tavolo anche una misura dedicata alle scuole paritarie che punta fra l'altro a ridurre le distorsioni dei diplomifici eliminandoli dalle scuole riconosciute e apriamo adesso la pagina dello sport con le fantastiche prestazioni degli azzurri ai mondiali di scherma ieri oro per la spada uomini e per il fioretto donne entrambi a squadre la potenza della scherma italiana è esaltata da una rivalità infinita con la Francia piegata sia dagli uomini che dalle ragazze azzurre i nostri dream team della spada maschile e del fioretto femminile dominano e portano l'Italia ad un passo da record assoluto in questi mondiali milanesi sono dieci le medaglie ad un solo podio dal primato fatto registrare a Catania nel 2011 e il Cairo 1949 l'ultima occasione per raggiungere le 11 medaglie sarà nelle mani della squadra di fioretto maschile impegnata oggi a partire dai quarti contro Hong Kong dopo la doppietta fantastica di ieri sono quattro Iori meno uno dal risultato migliore di sempre gli sbaristi firmano il capolavoro andando indietro nel tempo di 30 anni il successo ai mondiali di Essen l'epilogo dorato che mancava da un'eternità nonostante in mezzo ci siano stati i successi olimpici prende forma grazie a Davide Riveroli il cucciolo che aveva già conquistato l'argento individuale Gabriele Cimini il capitano Andrea Santarelli con tutta la sua esperienza a supporto a supporto anche Vismara una squadra capace di sorprendere avversari del calibro di Borel e del campione olimpico Romain Cannone grazie alla sicurezza costante e alla varietà di colpi un crescendo che ha reso orgoglioso il commissario tecnico Chiadò per una prestazione scintillante le fiorettiste di Cerioni missano il titolo del 2022 e ribadiscono il loro dominio in queste giornate speciali dopo il podio tricolore nella prova individuale con Alice Volpi Ariane Enrico e l'avventurante Martina Favaretto un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo con 18 ori mondiali a squadre ancora loro a recitare da protagoniste assolute nella formazione completata da Francesca Palumbo scelta per l'ultimo assalto con cui chiudere la gara e che ha mostrato tanta grinta nel passaggio recesivo l'Italia capace di superare il momento più sofferto con l'Enrico in difficoltà nel suo parziale dimostrando quel carattere oltre alla classe che si addicono alle grandi delle pedane Formula 1 sempre più nel segno di Verstappen il campione mondiale in carica ha vinto ieri in Belgio la prova sprint oggi la gara con Leclerc che partirà in pole position è vero oggi pomeriggio Max Verstappen non partirà dalla prima fila ma intanto ieri ha fatto sua la sprint race con annessi 8 punti in classifica mondiale sul circuito di Spa alla vigilia del Gran Premio del Belgio una minigara fortemente condizionata dalla pioggia e da un affollato cambio gomme per passare da bagnato a intermedio che ha creato caos sulla pit lane e qualche tensione partenza lanciata e poi tutti dietro la safety car per 4 dei 15 giri totali a causa dell'acquazzone con tanti duelli ravvicinati l'olandese della Red Bull precede Oscar Piastri ottimo secondo con una McLaren in costante crescita e Pierre Gasly terzo con l'Alpine fresca di rivoluzione tecnica e allunga ancora nel mondiale ora i punti di vantaggio sul secondo il compagno di scuderia Sergio Perez ieri ritirato sono 118 penalizzato di 5 secondi Hamilton che aveva tagliato il traguardo alle spalle di Gasly in ritardo le Ferrari che chiudono con il quarto posto di Carlos Sainz frenato da una sosta con problemi nel montaggio di una gomma posteriore e il quinto del suo compagno Charles Leclerc anche lui rallentato all'uscita delle cambio gomme ma che comunque alle 15 partirà in prima fila in virtù delle qualifiche di venerdì vedremo se oggi nel Gran Premio sarà ancora Verstappen Show che dovrà comunque rimontare dalla sesta posizione in griglia il tutto con l'incognita di un meteo che non dà certezza e con una Ferrari che speriamo potrebbe tenere il passo gara fin dall'inizio sfruttando la pole position e prima di chiudere un aggiornamento proprio sul meteo perché è tornato il maltempo al nord violenti temporali con forti nubi fragi si sono abbattuti nella notte su diverse zone dell'Alto Adige causando molti danni non si segnalano fortunatamente feriti o dispersi la frazione di Sora Furce è parzialmente isolata a Colfosco una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata tridentina ma tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene ed è tutto per questa edizione ora le previsioni del tempo con Paolo sotto corona quindi vedremo l'evoluzione della situazione la prossima edizione del telegiornale alle 13.30 grazie per averci seguito buona domenica